Facciamo chiarezza su tutti questi dubbi, su tutte queste incertezze e lo facciamo con il professor Emanuele Carluccio. Emanuele Maria Carluccio, presidente SQC, comitato scientifico di EFPA Europe, docente alla SLAB Bocconi. Chiamo con gli altri, per l'altro io parlo un secondo. Alla il microfono, li chiami pure. Buon pomeriggio a tutti. Io vi ruberò soltanto un minuto, non di più, perché dobbiamo recuperare 15 minuti sulla scaletta e anche perché come di mia abitudine mi limito soltanto a spiegare per quale motivo come comitato scientifico, come comitato organizzatore abbiamo deciso quest'anno di dedicare uno spazio del nostro convegno, della nostra due giorni a un tema di questo tipo. Vi ricorderete che l'anno scorso vi abbiamo intrattenuto sul private equity e sul private debt perché ritenevamo che al di là del core business rappresentato dal portafoglio di investimenti che tutti voi sapete gestire al meglio, visto che rappresenta la parte preponderante della vostra attività. Vogliamo cogliere queste occasioni di questi convegni annuali per provare a confrontarci con altre tematiche, con altri bisogni, con altre tipologie di servizi che in alcuni casi già completano la gamma della vostra offerta, in alcuni casi si sta ancora riflettendo se inserirli o meno e soprattutto sulle modalità organizzative per poterli offrire al meglio. Che cosa intendiamo in questo contesto per well planning? Fondamentalmente gestire insieme i tre poli, famiglia, impresa e patrimonio e quindi capire se riusciamo in qualche modo ad aiutare i nostri clienti, investitori, imprenditori a programmare, organizzare e proteggere, programmare nel senso di anticipare le problematiche che tipicamente possono caratterizzare le diverse fasi sia della vita della famiglia sia della vita dell'impresa, organizzare il passaggio generazionale, aspetto delicatissimo e proteggere il patrimonio. Vedremo quindi con i due interventi che abbiamo messo in programma di affrontare sia queste tematiche, dal punto di vista delle finalità che si vogliono perseguire, sia soprattutto dell'analisi degli strumenti con i quali è possibile perseguire questi obiettivi. C'è chi concentra la propria attenzione sul trust, sui patti di famiglia, sulle operazioni di family buy out, sulle polizze, sui fondi patrimoniali, sui mandati fiduciari. È ovvio che in un'ora e mezza non abbiamo tempo di esaminare le technicalities di tutte queste soluzioni e soprattutto i relativi pro e i relativi contro, però almeno cerchiamo di dare un'idea della complessità degli argomenti che in qualche modo devono essere fra loro interconnessi e delle technicalities che devono essere affrontate e quindi delle soluzioni organizzative che devono essere adottate perché è impensabile che il consulente, l'advisor, il planner possa da solo presidiare in modo puntuale le competenze richieste in tutti questi singoli contesti. Quindi per definizione bisogna fare un gioco di squadra, bisogna valersi delle competenze specialistiche dei diversi professionisti, quindi bisogna trovare la formula per arrivare a offrire un servizio alla clientela che abbia un pricing accettabile e che porti la soluzione ideale ai diversi problemi. Per affrontare in modo assolutamente completo queste tematiche abbiamo coinvolto Guido Feller e Luigi Belluzzo. Nel caso di Guido Feller è un docente di management delle aziende di famiglia a Trento, quindi focalizzato proprio sulla tematica che oggi affrontiamo e ovviamente oltre al suo ruolo di docente a contratto a Trento offre questo tipo di servizio da un punto di vista professionale. Nel caso di Luigi Belluzzo è uno sdabocconi professor che interviene in sda con seminari su queste tematiche, però a sua volta fondatore dello studio Belluzzo & Partners, socio fondatore e ovviamente persona che è direttamente coinvolta su queste problematiche nel day by day. Quindi li chiamerei sul palco e inizierei subito ad affrontare con loro le tematiche. Non so se ci mettiamo sulle sedie o se organizzano tu. Ti do subito la parola così la recuperiamo. Buonasera, grazie a tutti per questa opportunità, in particolare grazie a Emanuele per aver condiviso tutte le fasi preliminari di questo intervento con l'amico Luigi. Io volevo fare una premessa, ci sono due modi di fare web planning in questo momento nel nostro paese che sono uno farlo da professionista, da libro professionista e uno è anche quello di farlo come uomo d'azienda. Quindi rappresenteremo un po' le due anime. Luigi è un dottore commercialista che lavora in uno studio e che serve clienti high net worth o ultra high net worth. Io, pur essendo iscritto all'ordine commercialista di Milano, ho preferito invece farlo in azienda e quindi presidio questa funzione nell'ambito intermediario. Quindi sarà interessante vedere le due anime e i due modi di affrontare questo argomento. Prima di tutto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di servizi che andiamo a offrire a clienti che hanno un patrimonio complessivo, quindi dopo vedremo non soltanto finanziario, che per me vanno dai 10 milioni di patrimonio in su. Quindi diciamoci subito che io taglio basso, poi su questo ci torneremo perché qualcuno invece preferisce andare su livelli superiori, ma si giocherà tutta la discussione di oggi sul segmento da targhettare e come questi segmenti vanno targhettati. Chi sono questi soggetti? Prima di tutto sono degli imprenditori. Se andiamo a vedere la ricchezza delle famiglie, questa ricchezza prima o poi è generata da un'impresa. Quindi ci troviamo gli imprenditori, tipicamente gli imprenditori di famiglia, sono l'85% dei miei clienti, che possono a loro volta dare luogo nelle generazioni a patrimoni importanti senza l'impresa. Quindi abbiamo i rentier, cioè i possidenti. I possidenti che o ricevono questo patrimonio perché hanno venduto l'impresa o perché l'hanno ereditata. Quindi se andiamo su nelle generazioni vediamo che c'è sempre un'impresa all'origine. Ed è una popolazione dinamica. Ci sono i professionisti che diventano manageri, i manageri che diventano imprenditori, gli imprenditori che vendono imprese e continuano a fare i manageri, quindi chi più ne ha più ne metta. Un altro tema è che patrimonio andiamo a indirizzare. Noi consulenti finanziari, dico noi perché anch'io faccio parte della categoria, siamo abituati a guardare il patrimonio finanziario. Se andiamo a vedere i patrimoni degli imprenditori, questi patrimoni invece sono fortemente centrati sull'impresa. Quindi siccome ci divertiamo a fare un po' di sondaggi, di analisi anche a livello macro, sappiamo che mediamente l'imprenditore, l'impresa apprenditrice ha due terzi del patrimonio investito nell'impresa. Quindi se gli andiamo a parlare degli aspetti della finanza, del portafoglio, della gestione dei patrimoni, probabilmente non è lì che hanno la testa tutti i giorni. Ed è fondamentale che possiamo parlare di imprese, delle problematiche della proprietà, della famiglia, del patrimonio, e via dicendo perché è lì che si annida la vera angoscia del nostro cliente. Poi ci sono gli immobili, e gli immobili guardate che condividono questo primato. Anche qui siamo una media perché gli immobili spesso senza l'impresa possono andare all'80-90% del patrimonio e allora sono guai di questi tempi, così come l'impresa può arrivare anche all'80-90% del patrimonio. E quindi vedremo nel passaggio generazionale sono altrettanti guai potenziali. Come affrontiamo, come si affronta questo tema? Si affronta su tre livelli, come diceva Emanuele. Pianificare, programmare, organizzare e proteggere. Sebbene andiamo a vedere, la protezione di fatto è un tema trasversale sia alla programmazione che all'organizzazione. Perché se anticipiamo i problemi futuri, già riusciamo a individuare i fattori di rischio che dobbiamo mettere in conto. Così come se organizziamo un patrimonio con una struttura atta a prevenire i rischi e gli inconvenienti e le cose improvvise che possono succedere, già riusciamo a mitigare questo rischio. Cosa si fa nella programmazione? Nella programmazione si cerca di proiettare le due componenti di questa situazione prevalente nel futuro. Quindi da una parte c'è l'impresa e dall'altra c'è la famiglia. Nell'impresa si cerca di capire dove va l'impresa, quanto cresce, come cresce, se cresce. E quindi si vanno a identificare le risorse di cui l'impresa ha bisogno, non solo a livello finanziario, capitale, debito, ma anche a livello di risorse umane. Competenze imprenditoriali, competenze manageriali e stesse capitale umano che necessita l'impresa, che può venire dalla famiglia ma può dover essere preso da fuori. Quindi alla fine di questo esercizio gli esiti possono essere molteplici. Uno, cresco con le mie risorse, cresco con la mia famiglia. Due, cresco con risorse di terzi e devo cercare del management all'esterno e la famiglia si ritira a monte. Terzo, non cresco o non ho le risorse e quindi vendo. Ah, interessante per noi. Perché entrare in questo processo vuol dire assistere l'imprenditore e la famiglia nell'accessione dell'impresa che molto spesso avviene responsabilmente, non è una sconfitta, è una scelta socialmente responsabile, quella della famiglia che esce dall'impresa perché capisce che non riesce a gestire la complessità, non ha le risorse per crescere e che quindi vende, incassa un capitale, ecco dove noi andiamo a mettere le mani e molto spesso reinveste in imprese più semplici e più piccole da fare crescere. Qui l'impresa. Di là c'è la famiglia. C'è la famiglia che traguarda la generazione successiva. Chi sarà che andrà a gestire l'impresa? Quali sono gli eredi che non entrano in impresa? E quindi già qui c'è il problema di partenza del passaggio generazionale. Per due motivi. Primo perché io voglio trattare i miei figli in modo uguale e quindi lasciare a tutti delle parti uguali dopo di me. Due perché non tutti i figli andranno a gestire l'impresa e quindi se c'è soltanto un figlio che gestisce l'impresa e ho tre figli, quattro figli, già comincio a avere dei problemi. Perché? Perché sapete che in Italia, così come negli altri paesi europei, esistono dei diritti di legittima. Nessuno di noi che lascia un coniuge e dei figli è libero di disporre a titolo gratuito dei propri beni né in vita né all'apertura della successione. Perché questo? Perché un imprenditore, un titolare di un patrimonio che lascia questa vita terrena deve riconoscere alla moglie almeno un quarto del patrimonio e di tutto ciò che è stato donato in vita e ai figli, se sono più dei due, metà del patrimonio da dividere attraverso tutti i figli. Quindi la quota disponibile di cui si parla non può andare oltre il quarto di tutto quello che è stato trasferito gratuitamente in vita ed è stato lasciato al momento dell'apertura della successione. e quindi che cosa succede? Succede che se io sono un imprenditore e lascio un coniuge e tre figli, facciamo due conti, non posso lasciare più del 40% del patrimonio a uno solo dei figli. E se l'impresa cuba il 100%, caso ipotetico, ma non molto distante da certe situazioni del mio patrimonio, ecco che io non riesco a lasciare a uno dei miei figli la maggioranza dell'impresa. Nemmeno, non parliamo per la totalità. Ecco, questo è uno dei problemi, tra il resto, che sta minando una serie di situazioni della competitività del sistema paese, per cui ne abbiamo parlato anche con Confindustria a livello parlamentare, perché sono norme molto vecchie. Pensate che in Germania la quota disponibile non può mai andare sotto al 50%. Allora, chi mi conosce sa che cito sempre questa situazione limite che ho fatto fare, sviluppare anche con delle tesi e delle ricerche. Prendiamo il caso di Fiat e prendiamo il caso di BMW. Sono entrambe delle imprese familiari, sono entrambe, hanno una storia impressionante, uguale, parallela, attraverso un secolo e mezzo. E voi vedete bene che cosa succede. Sapete quanti sono i soci della famiglia che controllano FCA? Sono più di 250. Sapete quanti sono i soci della famiglia che controllano BMW? Sono due. Fratello, sorella, la mamma novantenne all'usufrutto. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se andate a vedere la posizione industriale di queste aziende, chiaramente esprimono una situazione precisa, una molto focalizzata sull'investimento industriale in un segmento auto e moto, l'altra diversificata, perché deve mantenere la famiglia. Ecco come si antepone l'interesse della famiglia, l'interesse dell'impresa. Ma quello che a me interessa è di dire che in Germania la quota di legittima non può andare sotto il 50% e non esiste il divieto dei patti successori. Non posso pianificare la mia successione in vita, con le eccezioni che ci diremo. In Italia sono sottoposto ai divincoli pesanti, di una quota disponibile molto piccola, e di un divieto di pianificare la mia successione nella sostanza in vita che ammette delle deroghe che vanno gestite con molta attenzione, e con molta cautela. Altro tema che ci riguarda tutti e riguarda tutti i nostri clienti. Sapete che l'Italia è un paese che da un punto di vista della successione è un paradiso fiscale. Tutti sanno che questa situazione non potrà andare avanti, nessuno è ancora in grado di dire quando cambierà e come. Sta di fatto che esiste un disegno di legge che è stato sviluppato in Parlamento da un partito d'estrema sinistra, quindi ha la credibilità che può avere, ma che porta da una situazione in cui abbiamo franchigie di un milione con l'aliquota al 4%, a una situazione in cui sopra i 5 milioni arriviamo a non avere franchigie ed avere aliquote anche del 45%, non del reddito, del capitale. e quindi tendiamo a essere uno paese che per la successione della nazione in termini di tassazione si avvicina molto a quelli che sono i modelli degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Germania e della Francia. E sapete che in queste settimane, in questi mesi, i notai stanno lavorando come dei matti proprio per andare a mettere in franchigia, in salvo, le franchigie e le aliquote che sono ritenute ancora privilegiate e di cui godiamo ancora oggi, non si sa ancora per quanto. Questo ci dice molto chiaramente il perché pianificare. Cosa vuol dire poi organizzare? Come diceva Emanuele, ci sono degli strumenti di organizzazione che vediamo qui a sinistra. Testamento, l'usufrutto, il trust, la polizza, i patti di impresa. Nei patti di impresa poi andiamo a vedere ci sono tipicamente strumenti da commercialisti, da avvocati, l'ordine di famiglia, le strutture societarie, gli statuti, i patti per sociali, cioè tutto quello che attiene al governo, al controllo, alla proprietà dell'impresa. Ma questi strumenti non possono essere disegnati, implementati, combinati se a monte non c'è un disegno, non c'è un programma. Ecco che parliamo di patti di famiglia con la I, perché il patto di famiglia è ex articolo 768b, se invece quello strumento che deroga al divieto dei patti successori e ci sono in mezzo dei processi che attengono alle vicende di famiglia, attengono alla gestione del patrimonio, attengono alla gestione e proprietà dell'impresa. Quindi noi siamo un po' degli ingegneri che combinano queste componenti e attivano questi processi per creare nei patti di famiglia gli accordi che disciplinano tutta questa materia, nei processi che li gestiscono, ma anche negli strumenti che devono essere coerenti e disegnati sulla base degli obiettivi e delle modalità e norme di funzionamento dei patti di famiglia. Proteggere. Qui riprenderemo, anche Gigi ce lo dirà, noi siamo abituati a considerare la ricchezza della famiglia nell'ambito del patrimonio, immobili, attività finanziarie, imprese, in realtà noi siamo convinti che c'è ben altro, che ci sono delle beni materiali, delle ricchezze materiali che attengono le persone, capitale umano, alle loro capacità, capitale intellettuale e al fare squadra nella famiglia. Sistema di valori, governance, filantropia, valori condivisi e via dicendo. Questo perché se andiamo poi a vedere i rischi, questi rischi possono minare la parte sinistra così come possono minare la parte destra. Noi di solito siamo abituati ad andare a vedere la parte destra ma quelli di sinistra come rischi sono ancora più insidiosi. Litte, conflitto, separazione, inerzia, dispersione, mancanza di coesione, addirittura situazioni di pesanti conflitti. Io mi limito a guardare stasera, ma ci sarebbe da passare molto tempo insieme, i rischi. Rischi personali, rischi familiari, i rischi imprenditoriali, pensiamo a fare l'amministratore di società, oggi il sindaco, il dirigente pubblico è uno dei mestieri più rischiosi che esistono al mondo e poi ci sono quelli che voi siete abituati a trattare ogni giorno. Ma soffermiamoci su alcuni di questi rischi, i rischi del dopo di noi, dove ci sono dei soggetti deboli, degli indicappati che possono non essere più assistiti dai genitori, dai familiari, dopo la vita dei genitori e familiari, quindi, ad esempio, lo strumento del trust. I rischi che minano la capacità, la disabilità. E qui c'è un tema demografico, l'Alzheimer, dieci anni fa era la sesta causa di morte in Italia, oggi è la terza causa di morte. Perché dico questo? Perché nel momento in cui si manifesta una malattia neurologicamente disabilitante, il soggetto anziano o non anziano perde ogni capacità giuridica. Non può più fare il testamento, non può più nominare un amministratore, non può più gestire i suoi beni. Quindi si infila in un tunnel in cui, se non è stato pianificato prima una sistemazione successoria dei tari, non può più fare nulla. E voi capite che se ci sono dei familiari può andare bene, ma se non ci sono dei familiari, i parenti più prossimi sono lontani, evidentemente tutto va sicuramente non nella direzione in cui probabilmente voleva la persona. Quindi qui a fronte di questi rischi individuiamo delle strategie, delle opportunità, degli strumenti. Non voglio parlare di singoli strumenti, ma voglio parlare di strategie nel breve termine. La riservatezza attraverso la società mandato fiduziario, tutti i proprietari di immobili, tutti i soci di società commerciali sono in piazza. Perché basta che faccia una visura camerale, una visura catastale che io riesco con il codice fiscale a tirare fuori vita, morte e miracoli della persona e quindi a sottoporre il suo patrimonio all'attenzione dei malintenzionati. Separatezza, segregazione, trust, fondo patrimoniale, polizia e vita. E nel medio termine, come dicevo, la pianificazione, l'attivazione di una governance e l'attivazione di una serie di strumenti e di strutture di protezione mi permette di affrontare questo tema. Affronto soltanto in pochi minuti alcune delle strutture. Io, come San Emanuele, sono stato amministratore delegato di una trust company, ho fatto il trustee, conosco lo strumento, ne conosco i limiti, ma ne conosco anche le potenzialità. Che cos'è il trust? Il trust è uno strumento con il quale un disponente istituisce un trust fund, quindi un fondo in cui conferisce i propri beni separandosene, spossessandosene, amministrato da un trustee che lo amministra, affidandole un trustee che lo amministra fiduciariamente negli interessi di uno più beneficiari. il disponente con l'atto istitutivo disciplina il programma con cui questi beni saranno poi gestiti, fatti fruttare e trasferiti nel reddito o nel capitale a dei beneficiari, ma di fatto se ne spossesserà. E questo è uno degli elementi che ci deve far stare molto attenti a questo strumento che non viene dalla nostra matrice di diritto, ma che viene dalla common law. i trust possono essere tantissimi e molto diversi tra loro, ma io ne ricordo soltanto due tipi, i trust di famiglia, quelli per la protezione e la tutela del patrimonio della famiglia, dell'impresa, per il passaggio nazionale, trust successori, e i trust per i soggetti deboli. Tra parentesi, il Senato ha già licenziato la legge sul dopo di noi, il Parlamento la sta valutando e la proverà proprio per gestire questo strumento a favore dei soggetti deboli, handicappati, psichici, fisici o comportamentali. Perché ci piace il trust? Ci piace il trust perché è uno strumento di organizzazione del patrimonio che va a programmare la gestione dei beni unitaria e professionale dove questi beni possono essere gestiti anche oltre la vita del disponente. Faccio soltanto un esempio. Per codice civile io non posso disporre per testamento che i miei beni quando non ci sarò più vengano assegnati agli eredi sotto condizione. Non posso dire che questi beni verranno dati ai miei figli perché quando si saranno sposati quando si saranno laureati quando avranno avuto dei figli. Ma io lo posso fare con un trust perché il trust gode della proprietà della ultraattività quindi di poter operare anche oltre la mia vita. E questo è un vantaggio straordinario è una possibilità straordinaria di cui magari poi parleremo. Altro esempio e poi mi taccio il patto di famiglia articolo 768 bis. Ho detto in Italia vige il divieto dei patti successori. Se io e i miei figli ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo come dividere il patrimonio oggi e firmiamo una carta che dice chi avrà che cosa quando si aprirà la mia successione quella carta i miei figli se la potranno appendere nel soggiorno perché nulla non ha valore. E questo è un limite particolarmente pesante nella pianificazione dell'impresa di famiglia perché io non paralizzo di fatto le scelte successive nel momento in cui lascio uno dei miei figli la mia impresa perché il mio figlio non potrà essere mai sicuro che l'impresa sarà sua fino a quando non si apre la successione. Esempio tre figli Giovanni Francesca e Filippo ricevono in vita del padre cento euro ciascuno Giovanni cento euro con l'impresa Filippo cento euro come immobili e Francesca cento euro come denaro passa un certo tempo il genitore passa miglior vita si apre il testamento l'impresa vale tremila l'immobile valgono centoventi e il denaro vale duecento perché l'hanno gestito bene ovviamente a questo punto cosa succederà? Filippo e Francesca andranno da Giovanni e gli diranno toc toc e adesso ci dai la nostra parte e quindi Giovanni che si sarà sacrificato avrà investito si è separato divorziato dalla moglie perché ha fatto una vita di inferno ma ha avuto un grande successo perché è stato bravo vedrà portarsi via un pezzo dell'impresa vale anche il contrario Giovanni è stato un mascalzone ha rovinato l'azienda l'ha fatta fallire il patrimonio è zero si apre la successione e sarà lui che andrà da Francesca e Filippo a chiedere la sua parte quindi capite che queste norme sono estremamente devastanti da un punto di vista della pianificazione del futuro il patto di famiglia deroga perché permette nell'ambito dell'impresa e in vita dell'imprenditore andare da un notaio fare un atto pubblico dividere non dividere il patrimonio assegnare l'impresa si va di solo l'impresa al figlio o ai figli cui deve trasferirlo con questo atto pubblico con cui partecipano gli altri eredi legittimari coniugi e altri figli si sterilizza i diritti di legittima e a questo punto si andrà a gestire la successione in modo tale che potrà passare tutto il tempo che vogliamo i valori potranno fluttuare come vogliono ma quel pezzo di eredità è stata definitivamente stabilita fissata e formalizzata quindi nessuno potrà più fare azioni di collazione riduzione o restituzione ecco questo è soltanto un esempio per dire come noi siamo un po' gli ingegneri di questa attività dove tutti i vari pezzi devono essere messi in un mosaico in una costruzione ai fini di pianificazione organizzazione e protezione Gigi tocca a te mi mette le mie vai eccolo anch'io colgo l'occasione di ringraziare anche quello che è seguito là in fondo a destra siete veramente tanti noi da Bocconi siamo abituati a un'aula con più dialogo e volevo ringraziare tutti in particolare anche il presidente e quindi dell'associazione anch'io sono un fan di Benjamin Franklin quindi per chi ascolta mi dispiace si dimenticherà tutto io cerco di insegnare ma non è molto efficace coinvolgerne 800 non sarà semplicissimo ma chiedo anche al collega Carluccio di aiutarmi in questa vexata parlare di web planning oggi in questo contesto mi fa particolarmente piacere io mi occupo di questa materia da in sdabo coni da almeno 12 anni e devo dire che appunto grazie ai colleghi che hanno segnato la via stiamo cercando di portare avanti questo tema è un tema complesso quindi non è un tema molto spendibile io cercherò di essere molto funzionale e pratico allora di cosa vi parlerò eh vi parlerò e ovviamente prendo beneficio eravamo organizzati da quello che Guido Feller vi ha già spiegato io parlerò di patrimoni di riservatezza e di family di famiglia di family business di pianificazione patrimoniale 3.0 che mi fa specie visto che ho visto il video di che cosa si ritiene essere il web planning oggi ma vi assicuro che oggi è 3.0 ed è un grande vantaggio come dimostrano i paesi ex in via di sviluppo perché si fa molto prima a prendere il ritmo ci sono alcuni strumenti per pianificare noi facciamo architettura dei patrimoni non ci interessa tanto adesso dico una cosa forte non ci interessa tanto cosa c'è sotto voi siete molto interessati al sottostante mobiliare noi siamo molto interessati che il cliente sia seguito da un bravo consulente finanziario ma che ci sia Fiat o BMW non è molto importante che ci sia un mattone o un valore mobiliare determina un rischio sottostante ma l'architetto dei patrimoni usa degli strumenti con delle finalità che seguono più i processi come vedremo poi poi ho fatto due casi per ragionare insieme e cercare di coinvolgervi sperando di lasciarvi qualcosa allora patrimoni riservatezza e family business queste sei slide sono storiche ormai ci metteremo il copyright cosa posso fare con il patrimonio a quel patrimonio posso fare solo due cose agli studenti e non mi permetto di trattarvi come tali si fa un esempio molto semplice papà è ricco ha uno yacht 24 metri preferite essere proprietari possessori o utilizzatori non vi do la risposta io ce l'ho ma non vi do la risposta cosa posso fare con il patrimonio posso detenerlo posso farlo circolare ma se aggiungo una variabile una e normalmente onestamente ne abbiamo più di una da gestire ma aggiungo una variabile delle due che mi permetto di aggiungere al patrimonio aggiungo la riservatezza poi vedremo come nella pianificazione 3.0 questa parola è diventata chiave che riservatezza è verso l'ambiente esterno non voglio far sapere al mio concorrente che sto facendo questi investimenti verso la famiglia non voglio far sapere a mia sorella a mio fratello a mio figlio a mia moglie a mister mani bucate che come famiglia abbiamo investito quella cosa altrimenti ci porta tutti i suoi amici voglio proteggermi contro tutti i futuri creditori ho venduto l'azienda ho preso 50 milioni non ho un debito è il momento giusto per pensarci non è il momento giusto vi arrestano se c'è il Fumus Iuris e per fortuna hanno rafforzato le norme non solo in Italia voglio proteggermi contro le autorità che fa sempre un po' specie dirlo o contro i rischi politici sì perché le famiglie sono transnazionali posso avere investimenti turistici in Tunisia a noi è capitato non è semplicissimo aver gestito investimenti turistici in Tunisia visto che confiniamo come mare aggiungo un'altra variabile family business ora devo citare il professor Corbetta che nonostante anche Guido sia un ottimo professore di family business ha tracciato la via e rinvio a tutto quello che lui ha già scritto ma mi interessa dirci che una famiglia può essere allargata ma non solo primo letto secondo letto terzo letto e a volte neanche letto ma i componenti della famiglia possono vivere in paesi diversi per noi big issue rilevante è mio figlio vi invito al matrimonio benissimo mio figlio sposa un'americana e si trasferisce negli Stati Uniti abbiamo un momento di sussulto perché ci cambia tutto il set di regole che governa un patrimonio poi ovviamente lunga vita e prevale la vita noi facciamo sono i clienti che scelgono le case noi facciamo gli architetti e quindi posso avere famiglie attive imprenditorialmente o non attive o temporaneamente non attive come ha già spiegato bene Guido i beni di famiglia non sono tutti uguali i figli cerchiamo di farli io ne ho tre di farli tutti uguali ma i beni non sono tutti uguali ci sono dei beni che noi chiamiamo scusate l'inglese heritage questo è un bene della mia famiglia era di mio nonno del suo nonno non posso venderlo non voglio venderlo può essere un quadro una tenuta vinicola un'auto d'epoca ci sono dei beni che il cliente ha comperato come investimenti ci sono dei beni che ha comperato come spesa non posso spendere 200.000 euro in una cosa che mi piace esiste anche il divertimento qualcuno prima nel video parlava di asset class poi ci torniamo tre, cinque anni fa quando parlavamo di beni d'arte e collezionismo ci guardavano oggi mi sembra che il tema sia molto sdoganato anzi magari a volte è andato pure meglio di altri investimenti non solo membri della famiglia hanno in comune gli affari in un certo settore ma si danno delle regole e usiamo la parola fanno degli accordi tra familiari in cui decidono che in determinati altri settori possono liberamente investire oppure no cos'è che c'è in gioco citiamo ancora Benjamin Franklin perché prima mi ha provocato c'è in gioco una cosa molto importante che sta dentro la mappatura dei patrimoni che si chiama reputazione Benjamin Franklin se la porcellana si rompe anche se la giusti si vede quindi prima che un membro di una famiglia super wealthy faccia un investimento e lo sbagli c'è un anello di protezione che deve agire ci sono i bisogni dei familiari è tutta la legge del dopo di noi ci sono dei desideri particolari la famiglia fa filantropia e non vuole far sapere a chi riceve da chi arriva che oggi con tutta la trasparenza che abbiamo è quasi impossibile e quindi ci sono tutta una serie di temi che unendo il patrimonio con cui banalmente posso fare solo due cose mettendoci da un lato la famiglia e dall'altro la riservatezza complicano come si dice nel family business ci sono due fattori l'amore e il tempo l'emotività e il passare degli anni che influenzano tutto questo sistema bene siccome Emanuele mi ha detto parliamo di wealth planning a una platea come la vostra ha detto prima di parlare del wealth planning parliamo del wealth che cos'è il wealth in Italia Banca Italia fa una sua verifica so che la slide è piccola ma poi sono state date e distribuite innanzitutto esiste il puntatore credo che un 800 persone non serva esiste la piramide la piramide inventata dagli americani che segmenta segmenta il mercato e mi interessa molto quello che ha detto prima Guido Feller cioè dove siamo nella piramide beh siamo nei servizi per i super wealth assolutamente sì fin quanto possiamo spingerci in giù un po' non tantissimo con tutto rispetto intellettuale l'app per affluent compra un prodotto nel nostro mondo può fare non segue una best practice cerca di non sbagliare ci vuole una certa dimensione dove è concentrata la ricchezza come evolve la ricchezza ma sono sicuro che voi meglio di me conoscete questi temi la cosa interessante è ma se il patrimonio non sono solo asset mobiliari come fanno i servizi ad essere disegnati solo per gli asset mobiliari e quindi cosa sono i custody service i servizi per la negoziazione l'intermediazione finanziaria la consulenza finanziaria il risparmio gestito la pianificazione il risk management la gestione immobiliare la strutturazione dei club deal e del private equity la consulenza successoria la consulenza fiscale i servizi alla famiglia l'art advisory le ho lette se guardate il campione oggi in Italia di banche che dicono io faccio wealth fanno quella roba lì è il wealth planning e qui con un po' di provocazione anche per stimolare poi la discussione ma le asset class sono una cosa parliamo in italiano il patrimonio sottostante il bene sottostante il quadro cento azioni eni cosa c'entrano con il family wealth io ho già aggiunto family potevo anche non aggiungerlo family è venuto spontaneo aggiungere family cosa c'entrano con il wealth e l'asset management cosa c'entra con il wealth management e l'asset allocation e l'asset mapping e l'asset advisory cosa c'entrano con il wealth planning quando noi parliamo di wealth structuring stiamo facendo wealth planning ora se sono riuscito a coinvolgere 800 persone una cosa dobbiamo ricordarci attenzione ai bisogni del cliente perché i bisogni del cliente sono legati al suo ciclo di vita non al fatto che io guadagno 100 euro in più perché gli vendo un'assicurazione o 100 euro in più perché gli vendo un trust è il bisogno del cliente e il suo ciclo di vita questo mi porta sto Emanuele prendendo beneficio del tempo che ho alla pianificazione patrimoniale 3.0 intanto dite 3.0 perché esisteva 1.0? certo esisteva 2.0? certo parliamo della 3.0 come circola un patrimonio? a titolo oneroso a titolo gratuito inter vivos mortis causa esiste il modo migliore per far circolare un patrimonio in Italia nel 2016? avete due risposte siete in tanti non datemela insieme sì no la risposta è sì esiste il modo migliore è inter vivos a titolo oneroso il 90% della ricchezza nella famiglia è trasferita per donazioni cioè nel modo peggiore perché? ve l'ha spiegato Guido prima perché io che gioco per uno dei fratelli arrivo e ho dieci anni per impugnare qualunque cosa fatta dal padre dalla morte del padre dieci anni oggi è tanto quindi intanto è interessante che i beni circolano ma c'è un modo migliore quindi la domanda numero due visto che col patrimonio posso solo fare circolare è nella detenzione esiste un modo migliore? no come posso detenere un bene? direttamente io sono proprietario dell'azienda indirettamente bene di secondo grado io sono proprietario del 100% della società che è proprietaria dell'azienda ora già solo se passa il concetto che ho una distinzione tra l'asset sottostante e la detenzione giuridica che può essere proprietà possesso o utilizzo siamo dentro una cosa molto simile al web planning che come credo stia passando e l'ha detto correttamente il professor Carluccio all'inizio necessariamente vi deve dare un gioco di squadra e con le banche e con i professionisti intorno ai vostri clienti e tra di voi perché? perché sono temi trasversalmente complessi e qui c'ho la fiduciaria non intendo entrarci c'ho i vincoli di segregazione i vincoli di destinazione i vincoli con effetto segregativo e i vincoli di destinazione tutto il tema della separatezza tutto il tema dei trust che ha citato prima Guido il patrimonio di cui stiamo parlando nel web planning nella pianificazione 3.0 ha bisogno di questa slide ma se non ricordo male questa slide questa è la mappa del tesoro nella pianificazione 1.0 è dove sono i paradisi fiscali? aspetta prendo il treno passo il confine ho trovato un paradiso fiscale nella pianificazione 3.0 non ci sono più paradisi fiscali paradisi informativi finanziari sì aspettiamo un anno sei mesi stanno cadendo gli ultimi ormai voglio dire non mi sembra molto intelligente usare una banca nigeriana per custodire i miei soldi il tema vero è la lotta contro il riciclaggio e allora le mappature sono diverse e scusate Consob dice delle cose Banca Italia ne dice delle altre il fisco ne dice molte altre ancora ma non solo esiste il Common Reporting Standard c'è una cosa che hanno inventato gli americani per non applicarla che è stata approvata a Parigi dall'Ocse in cui l'Italia è dentro che è lo scambio di informazioni multilaterali per cui le autorità in particolare quelle fiscali ma non solo avranno accesso alla mappatura dei conti correnti del cliente riservatezza trasparenza chiaro che la mappa è interessante c'è l'Egitto c'è il Bahrain ci sono un po' di isole c'è la Russia c'è anche l'Ucraina c'è un qualche cararmato in mezzo guardate qua non c'è più niente questa mappa è del 2015 non l'ho trovata nel 2016 non l'ho trovata ma Bahama scambia Cayman scambia Belize scambia Guatemala potrei dirveli tutti tutti questi sono entrati nel CRS scambiano le informazioni quindi il vostro cliente che idealmente non è vostro cliente ma che ha fatto la voloncia di disclosure male cioè ne ha fatto un pezzo oppure non l'ha fatta per niente perché è scappato nei Caraibi l'anno prossimo vedremo cosa fa quindi è finita l'epoca dei paradisi informativi è iniziata l'epoca del dialogo con fatica con fatica so che la professoressa non rappresenta la Consob ma stiamo cercando di dialogare con Consob che ha capito ad esempio cosa sono i trust che ha ragionato quando e se nel passaggio dentro una famiglia attraverso un trust scatta l'obbligo di OPA o no che non è proprio banale dieci anni fa era un problema teorico oggi Consob ha detto no se il trust è di famiglia e soprattutto siamo dalla parte di chi sta cercando con fatica anche in Bocconi ne abbiamo portati i vertici dell'agenzia a raccontare alla community che le assicurazioni sì ma fino a un certo punto i trust sì ma fino a un certo punto e attenzione all'abuso del diritto e quant'altro cosa di cui non voglio oggi entrare salvo non ci siano particolari domande dopo e quindi c'è tutto il tema che si chiama di compliance tributaria e di compliance regulatory che con tutta onestà intellettuale nella pianificazione 1.0 erano forse temi residuali per soggetti super reputable ma visto Panama Paper magari neanche quello quindi tornando al collegamento fatto prima dal professor Feller la mappatura del patrimonio è importante l'abbiamo rappresentato simpaticamente non vedendo le slide uno dell'altro ma uno nell'asse orizzontale l'altro nelle ordinate ma il sistema dei valori il patrimonio il capitale umano il capitale intellettuale devono entrare nel wealth planning quindi dice mi serve lo psicologo forse ma nessuno chiede di diventare un esperto tributarista di diventare un esperto consulente finanziario non esiste purtroppo il tuttologo esiste l'insieme di competenze specialistiche che devono guardare quindi a volte anche quello che si occupa di formazione delle nuove generazioni ha un ruolo importante io ho visto per mia esperienza fare crash in una famiglia in cui non dialogavano perché non erano stati educati a dialogare nel consiglio di amministrazione non si comportavano come consiglieri di amministrazione parlavano d'altro e dai una dai due volte io me lo ricorderò sempre per un Audi A3 è venuto giù un gruppo che valeva 100 milioni quindi non era un'azienda automobilistica no quella è andata bene non era un'azienda automobilistica quindi ci sono degli strumenti per pianificare anche qui guardo anche Emanuele perché io lì nella mia logica di presentazione visto quello che ha presentato Guido li sorvolavo in termini funzionali e avrei intenzione di farlo casomai dialoghiamo dopo quali sono gli strumenti cioè i mattoni la malta la cazzuola quali sono gli strumenti sicuramente gli strumenti societari quindi non si può fare wealth planning senza una solida formazione di diritto commerciale di diritto privato quindi servono gli avvocati e i commercialisti sì due italiani o esteri anche qui è molto interessante perché finché teniamo l'Unione Europea e speriamo a lungo c'è tutto un tema di libertà fondamentali per cui io posso vivere in Francia posso vivere in Germania posso vivere in Inghilterra quindi c'è tutto un tema sulle assicurazioni le private insurance cioè non solo le assicurazioni ramo 1 di diritto italiano ma le assicurazioni ramo misto di diritto lussemburghese sulla base dei regolamenti usciti il 28 gennaio del 2016 perché? perché c'è una sana competizione normativa non fiscale normativa all'interno dei paesi europei che puntano ad attrarre i luoghi dove fare prodotti finanziari o strutture finanziarie ma ci sono anche altri atti contratti i fondi come a capitale variabile i fondi di diritto decidete voi quotati a Dublino a Gibraltar visto che siamo qui con il mare perfino perfino Malta ha strutturato una serie di normative prendendo nota molto dal diritto inglese e ha una serie di strumenti poi uno può preferirli o non preferirli però uno può fare la casa con l'acciaio e uno può fare la casa con l'argilla sono sempre strumenti attenzione però attenzione però perché c'è deve essere una forte attenzione al tema della residenza fiscale ma non solo è molto difficile che una famiglia che abita in pianura padana e vive e lavora in pianura padana sia strutturata con strumenti fiscali americani inglesi è il buon senso che ce lo dice siccome è meglio andare a Milano a Roma o a Catania e evitare gli ex paradisi fiscali una volta le operazioni fotocopia venivano fatte sui regimi più esotici nella pianificazione 3.0 attenzione al tema della residenza fiscale e della residenza anagrafica ci sono degli strumenti per la governance questa parola governance poi la riprendiamo con l'esempio la governance è figlia delle forme societarie quali forme societarie tutte le forme societarie disponibili a un cittadino italiano quindi tutte le forme societarie disponibili nell'Unione Europea negli Stati Uniti e in qualche altra piazza finanziaria attenzione che a ogni forma corrispondono delle regole di compliance fiscale l'esterovestizione l'abuso del diritto li cito solo perché non credo di avere modo di entrare nel tema però ricordate ai vostri clienti che non è facile che deve essere tutto vero che i venditori di favole collodimi è simpatico altri no uno scrive delle favole perché è un romanzo per ragazzi va bene ci sono altri che raccontano delle favole non più praticabili è un danno per il cliente e guardate che noi che facciamo anche un po' di contenzioso a volte tocca difendere dei clienti che sono stati veramente mal pianificati quindi la governance si lega molto con gli strumenti societari la protezione posso perché ho chiesto autorizzazione dire una cosa un po' forte se l'obiettivo unico del vostro cliente è proteggersi l'Italia non è la giurisdizione giusta ci sono una serie di perché ma finché il legislatore non interverrà su alcuni punti ai noi non riusciamo a dare la piena protezione ma faccio degli esempi semplici se entra il penale e il sequestro per equivalente per esempio per il nuovo reato di omicidio stradale quindi ho un set di regole che mi difendono mi aiutano ma giustamente o non giustamente è una decisione politica ogni eventuale struttura anche fatta precedentemente quindi io sono diventato ricco perché ho venuto l'azienda nel 2005 nel 2006 ho fatto una struttura qualunque sia la migliore struttura nel 2016 succede un incidente di vita quella struttura potrebbe non reggere però la protezione si può fare anche non giuridica certo la protezione e forse è anche un bene stiamo diventando un po' come gli Stati Uniti cioè la protezione verso le autorità la pubblica amministrazione il fisco le autorità regolatori non c'è più è un bene bisogna dirselo nella pianificazione 3.0 bisogna dirselo quindi è inutile creare castelli in aria per difenderci quando è impossibile ci si può difendere da un avversario competitor ma nel set di regole la protezione in se stessa non è possibile può essere un effetto perché giustamente la riforma dell'abuso del diritto a chi guardate lo dico ai non tecnici è del primo ottobre 2015 dopo 12 anni che ne discutiamo e dopo sentenze di cassazione e parlo della mia materia cioè del tributario del tax illegal attenzione che è chiara l'evasione è una cosa l'abuso del diritto è stato molto ristretto però se faccio un'operazione abusiva è giusto che mi condannino ma altrimenti si chiama legittimo risparmio d'imposta adesso c'è abbiamo la norma però bisogna stare molto attenti a questi binari un binario civile un binario fiscale un binario penale accelero anche se ho tempo ci sono degli strumenti per il passaggio qui invece il wealth planning gioca la partita perché se faccio passaggio generazionale senza wealth planning mi prendo tantissimi rischi aggiungo anche se sono un padre vedovo e ho un unico figlio perché perché in un'epoca come questa di incertezza la logica del passaggio è il momento migliore per incentrare governance e protezione ed ecco che il wealth planning deve diventare su tutto è il momento della circolazione del patrimonio o la pianificazione della circolazione che mi può dare effetti segregativi benefici e non smontabili perché perseguiti per un legittimo interesse non tributario o non di violazione di norme quindi non redarguibile dal punto di vista penale anche qui attenzione da un lato l'aggressività del fisco italiano che però a volte è anche giustificato dal comportamento dei contribuenti e dall'altra parte c'è una nuova attenzione per il dialogo quindi per finire ho preparato alcuni due casi per ragionare insieme quando siamo in 30 35 in un'aula è più facile ma il primo caso è il caso di un nonno che pensa ai nipoti ma dice quasi quasi già che ci sono anche ai figli dei miei nipoti ai pronipoti la situazione con cui si presenta questo cliente che ha 100 euro è tutta la liquidità è presso banche vestita o non vestita da assicurazioni ha un po' di arte perché nel suo mondo ha sempre per piacere collezionato e ha una società immobiliare il classico signore che ha venduto l'azienda ha una figlia non più coniugata e ha un nipote un nipotino tutti sono residenti in Italia qual è l'obiettivo con cui si muove questo signor nonno? individuare un sistema legittimo che consenta di dare tutela generazionale al nipote tanto i soldi ci sono mia figlia è una persona a posto gli do qualcosa mi interessa tutelare la vita di mio nipotino una serenità legata ad un patrimonio che interviene in modo sussidiario mio figlio diventa Einstein mio nipote diventa Einstein bene ma allora andiamo a aiutare abbiamo talmente fatto tanti soldi 30 milioni 50 milioni decidete voi vendendo l'azienda che ce n'è anche per le nuove generazioni poi ovviamente essendo italiano bassi costi di gestione annuale e di manutenzione perché anche lì se riusciamo a fare le cose spendendo tanti soldi va bene per noi consulenti ma i clienti non è che sono sempre molto contenti che cosa si può fare? beh innanzitutto si va a vedere se ha fatto o non ha fatto testamento e in ogni caso gli si spiega che c'è una quota disponibile e che questa quota disponibile ha già spiegato Feller può essere dedicata alle generazioni future legittimamente dedicata alle generazioni future lui prende 10% della sua liquidità la dà alla figlia si tiene per il suo fine vita 20 di liquidità più va a mettere 60% del suo patrimonio liquido in polizze perché noi siamo un po' all'americana i denari vanno alle polizze gli asset vanno ai trust il beneficiario della polizze è il trust a cui dà comunque 10 in modo che si paghi le spese a cui dà il 100% dell'attività immobiliare e finché dura la finestra è aperta dà tutto il patrimonio artistico un po' di soldi qual è il programma che dà al trust proteggi le mie generazioni future ma gli dà questo progetto vedete che ha ricevuto beni che se muore oggi non sono criticabili sono dentro la quota il terzo di disponibile quindi questo trust ovviamente la domanda è chi è il trustee ma la vediamo dopo questo trust è uno strumento che si presta perfettamente a sopravvivere la morte del nonno e a difendere le generazioni future anche da qualunque tipo di vita lo possa circondare qui dobbiamo scendere in e non vorrei scendere che legge chi è il trustee eccetera però tutto una cosa Italia su Italia perfettamente legittima anche per il fisco tipicamente sulle famiglie di un certo tipo noi andiamo a raccontare ormai al fisco prima di fare queste strutture cosa ne pensano quindi un esempio in cui abbiamo usato uno strumento per governare uso ancora questa parola le generazioni future ultimo caso un imprenditore attivo molto più complicato di un nonno un imprenditore attivo ha le sue idee con figli minorenni da tutelare che però oltre ai figli naturali c'ha anche un altro figlio importante del suo gruppo ne parla come se fosse uno di famiglia situazione super wealthy Mrs la signora vive in Italia ha già una holding ha ottimi consulenti ha già strutturato benissimo quando arriva da noi ha già una holding sopra i due gruppi industriali uno quotato l'altro non quotato viene a dire mio figlio mio primo marito purtroppo deceduto mi sono risposata e ho fatto altri due figli vi faccio ridere perché ho usato ovviamente una femmina perché siamo sicuri che le generazioni successive sono quelle e esiste un marito vanno d'accordo sono tutti non stanno litigando no? in questi casi semplici non stanno litigando sono tutti residenti in Italia qual è l'obiettivo? è l'obiettivo non era facilissimo la signora non sta benissimo il marito fa il primario chirurgo c'entra niente col business quindi dice si bravo ma non mi può aiutare se mi succede qualcosa ho i figli minorenni che facciamo? eh salvaguarda la continuità gestionale protezione degli interessi patrimoniali e ovve possibile un mantenimento dell'attuale controllo ora la parola controllo mal si coniuga con i trust perché se chi fa il trust controlla il trust il trust è come non esistesse cosa abbiamo fatto? una roba non semplice usando ancora una volta il family trust ha istituito la signora un trust di diritto estero ma fiscalmente residente in Italia con due trustee con due guardiani con i beneficiari solo i suoi figli e non suo marito fidandosi del fatto che il suo marito non impugnerà e abbiamo costituito una piccola società creando la differenza adesso qui mi limito in superficie tra quota pesante e quota leggera la quota pesante consente di definire chi è il amministratore unico della NUCO italiana ovviamente l'amministratore della NUCO italiana decide chi è il consiglio di amministrazione della holding e quindi del gruppo e abbiamo messo 100 quote 3 pesanti 97 leggere le leggere se le è tenute lei le darà il trust le darà i figli non importa chi le dà non comandano non consentono di nominare di governare le quote pesanti 2 lei 1 al trust quindi mi dite voi avete fatto tutta questa roba per fare un trust con una quota si costa 10.000 euro all'anno però morta la signora se litigano i figli comanda il trust ho finito se scorriamo lo dico alla regia ci sono ancora due velocissimi esempi di caso che ridiamo al dottor Feller e poi rimaniamo a disposizione per le domande dalla platea mi piace parlare sempre per casi perché sono la vita vissuta intanto ve propongo uno molto semplice c'è un imprenditore che con i fratelli ha un'impresa di famiglia che un giorno viene da me e dice Guido mi spiace dovete lo dire ma io mi sto separando da mia moglie e io gli dico mi spiace molto cosa posso fare e dice uno guarda per favore se i miei rapporti cointestati devono essere intestati individualmente e rispondo sì e poi dice poi cos'altro posso fare allora io sapevo so che non ha figli non hanno figli due persone cinquantenni e gli chiedo ma tu hai fatto testamento e la risposta è no e dico beh allora il problema è un altro il problema è un altro perché finché tua moglie non ottiene il divorzio finché tu non hai ottenuto il divorzio tua moglie è erede legittimaria e quindi se ti dovesse succedere speriamo di no qualcosa senza testamento tua moglie avrà diritto a due terzi e i tuoi fratelli avranno diritto a dividersi il rimanente terzo IV inclusa pro indiviso tra moglie e fratelli le tue quote dell'impresa della società che è una società molto importante con 300 milioni di fatturato e quindi sarebbe anche possibile che tua moglie andasse dai tuoi fratelli e dicesse e adesso quanto mi date per avere indietro le quote della società viceversa se tu facessi testamento potresti assegnare a tua moglie il terzo che le spetta in denaro e i due terzi che comprendono le quote dell'impresa o i tuoi fratelli e a chi tu e voi fratelli e dei nipoti che vuoi trasferirla quindi fammi un piacere vai a parlare con il tuo commercialista vai a parlare con il tuo notaio ma cerca di risolvere la questione ecco questo è un esempio di come nella nostra professione nella vostra professione da un fatto banale di una separazione ne può scaturire un importante caso di pianificazione e di protezione dell'imprenditore una semplice separazione notate una semplice separazione matrimoniale secondo caso altro caso molto frequente sappiamo che le polizze vita hanno avuto uno sviluppo impressionante e che piacciono molto soprattutto per motivi fiscali ma andiamo a vedere gli aspetti civilistici delle polizze questo è il caso di un signore facoltoso che ha un figlio divorziato non ci sono non ci sono altri eccolo qua e che si pone il problema di che cosa fare per il figlio quindi voglio fare una polizia vita domanda tuo figlio è maggiorenne o minorenne? risposta è minorenne ecco allora tieni presente che nel momento in cui se tu fossi l'assicurato tu venissi meno tuo figlio sarebbe il beneficiario come da tue disposizioni della polizza anzi del capitale della polizza e l'assicurazione è obbligata a liquidare il capitale a quel punto cosa succede? succede che il tuo figlio minorenne si trova proprietario di beni importanti allora fino a che raggiunge la maggiorità forse è un problema minore perché c'è un tutore speriamo che il tutore sia un tutore onesto e capace c'è sempre un giudice tutelare ma il problema viene quando viene quando tuo figlio copia 18 anni perché acquisendo la capacità giuridica diventa proprietario di quei beni e può farne quello che vuole e c'è il rischio che trovi tanti amici tante amiche tante fidanzate che saranno molto interessate a lui ma anche ai suoi beni quindi problema come facciamo a tutelare quei giovani che raggiungono la maturità la maggiorità ma non raggiungono la maturità la capacità di amministrazione ecco la soluzione la polizza viene fatta in questo caso con una fiduciaria che ha altri incarichi e come beneficiario si nomina il figlio e assicurato il padre per evitare che questi beni vadano al figlio prima che sia in grado di amministrarsi da solo istituisco un trust che nomino beneficiario della polizza questo trust scusate questo trust ha per beneficiario il figlio a sua volta quindi nel caso in cui il padre venisse meno anche dopo la maggiorità del figlio la polizza liquida il capitale al trust il trust ha lo scopo di mantenere il figlio per i suoi bisogni quindi per gli studi per le sue esperienze per i viaggi all'estero per imparare le lingue per il matrimonio per iniziare un'attività commerciale o professionale e quando avrà l'età per amministrarsi 26, 28, 30 anni liquiderà il capitale al figlio che è beneficiario del residuo per quelli che saranno i beni che saranno rimasti qui era anche un po' più complicato perché c'erano degli immobili non posso mettere gli immobili nella polizza ah interessante allora siccome a me non piace mettere degli immobili in trust e se volete poi ve lo spiego perché faccio una società faccio in modo che il trust istituisca una società semplice in cui mettere gli immobili o perlomeno l'usufrutto degli immobili che a questo punto il trustee amministrerà e trasferirà al figlio quando sarà in grado di amministrarsi così come gli trasferirà i beni e i redditi che nel frattempo avrà generato secondo caso un po' più complicato marito e moglie la moglie seconde nozze non ha figli marito ha due figlie marito ha 70% di un immobiliare con la moglie che ha 30 e l'immobiliare controlla il 35% dell'operativa problema il marito 75enne intende trasferire il patrimonio alle figlie e tutelare gli interessi della moglie notate che tra la moglie e le figlie non c'è legame di parentela e quindi evitare quei problemi che ci sono soprattutto quando gli eredi non vanno d'accordo soprattutto perché non ci sono magari rapporti positivi in vita cosa succede in questo caso la moglie dona al marito il 30% dell'immobiliare che quindi acquisisce il 70% siamo in franchigia e quindi non paga imposte in successione e il marito acquista il 35% dell'operativa dall'immobiliare siamo in participation exemption e quindi l'immobiliare non paga i res fino a qui abbiamo speso pochissimo a questo punto cosa succede succede che questi due beni che hanno dei valori di diversi milioni molto elevati pongono il problema che vi ho detto all'inizio cioè se il marito in vita che vuole regolare la successione passa i beni li dona li donasse quando venisse tra molti anni meno questi due beni potrebbero avere dei valori molto molto diversi e quindi fare sorgere un potenziale conflitto una potenziale rivendicazione da parte di un erede o di due eredi contro l'altro e viceversa quindi tipiche situazioni di conflitto ma qui c'è il patto di famiglia ex articolo 768 bis e qui c'è l'impresa quindi è applicabile cosa succede succede che il marito cede attraverso un patto di famiglia quindi un atto pubblico a cui partecipa la moglie e le due figlie proindiviso l'immobiliare 100% e la nuda proprietà dell'operativa l'immobiliare è esente da imposta di donazione l'operativa paga imposta di donazione ma paga solo su patrimonio netto contabile in questo caso pagava 15.000 euro di imposta su una ventina di milioni di euro di patrimonio l'usufrutto va al marito che non si fida che vuole tenere il controllo siccome però la moglie lavora nell'operativa quando verrà meno ha stabilito per testamento di dare l'usufrutto alla moglie fino a che camperà dopodiché tutto si accorperà in capo alle due figlie che nel frattempo avranno fatto un patto di sindacato per dividere i beni e quindi andasse ognuno per i fatti propri terzo caso il terzo caso è quello di un ingente patrimonio immobiliare che una nobile donna di una regione italiana possiede e che in parte è in capo anche ai due figli c'è anche il marito il marito esattamente la stessa situazione ed esattamente la fotocopia di questo caso notate bene che questi immobili e sono 250 erano 250 unità immobiliari quindi un patrimonio molto grosso e articolato avevano dei redditi perché c'erano diversi immobili non solo residenziali ma anche commerciali e questi immobili erano posseduti dalla persona fisica quindi non c'era nemmeno la ditta individuale tantomeno c'era una società risultato la signora pagava IRPEF al 43% su tutto il reddito non poteva dedurre nessun costo quindi per geometri amministratori periti spese e via dicendo e soprattutto non poteva dedurre l'IVA su questi servizi laddove l'IVA era deducibile quarto al momento della successione gli eredi avrebbero pagato tutto chissà quanto con queste aliquote o con quelle che verranno cosa fa la signora costituisce una SRL a cui fa partecipare minoranze e figli vende l'usufrutto trentennale alla SRL l'usufrutto trentennale vale il 25% del valore venale dei beni quindi in questo caso degli immobili e si tiene la nuda proprietà dopodiché in un periodo successivo programma di donare la nuda proprietà di questi beni immobili e figli la società continua la sua vita se cadesse in successione non pagherebbe imposta di successione perché il controllo dell'impresa che in Italia e in resto d'Europa cade in successione gode di particolari benefici fiscali non solo ma l'SRL a questo punto cosa fa? paga il 27% sull'IRES non più 43 può dedurre l'IVA sui servizi può dedurre gli interessi di mutui e via dicendo può dedurre tutte le spese o che cosa succede a questo punto? succede che questa cosa vale poche centinaia di milioni di euro di imposta all'anno attenzione il fattore fiscale non deve essere quello che guida queste scelte ma qui c'è e la ragione principale era quello di costituire un'unità che permettesse di governare unitariamente il patrimonio e questo è stato un caso interessante anche perché la signora quando vende questo usufrutto quindi si tratta di una somma ingente non incassa subito il denaro ma iscrive un credito nei confronti dell'SRL e quindi i proventi che vengono dagli affitti e dai redditi dell'immobile vengono girati alla signora in regime patrimoniale quindi a ripagamento del debito è una transazione patrimoniale non è reddito la signora non viene tassata per cui se avesse distribuito dividendo in capo la persona fisica avrebbe pagato il 26% in questo caso fino a che non si estingue il credito che si è stabilito al momento dell'accessione non pagherà un euro di imposta grazie allora giusto il tempo di darvi alcune domande del pubblico vi chiedo di dare risposte molto brevi così rispettiamo i tempi allora ancora un po' di attenzione prima del break per favore chiedo al relatore Guido Feller se si rende conto che il sistema bancario tradizionale innanzitutto non sa nemmeno cos'è un trust ma dunque è un'affermazione un po' forte siccome io e il dottor Belluzzo lavoriamo nell'associazione italiana trust in Italia sappiamo che ci sono molte banche soci e molti dirigenti di banca che lavorano con noi che sono esperti però c'è del vero in questo c'è del vero perché la competenza di trust è una competenza nuova è una competenza che è in capo ai professionisti e io penso che il sistema bancario deve fare molto in questo senso dove lo vediamo lo vediamo nel momento in cui un trust apre un conto corrente apre un deposito titoli apre una gestione mobiliare presso una banca e se vi è capitato qualche volta sapete l'incubo in cui si va incontro in termini di antiriciclaggio in termini di comprensione dell'atto istitutivo sono venute fuori tutte le cose più oscene che ci è capitato perché ad esempio molti hanno detto se la legge che regola il trust è di jersey allora siamo in un caso di blacklist è una stupidaggia bestiale perché il trust era residente in Italia e non era certo la legge regolatrice che lo faceva risiedere a jersey può essere valido un trust in cui si conferisce tutto il patrimonio del disponente che ha due figli di cui uno invalido ponendo come scopo la tutela del figlio invalido è valido un trust così chi mi risponde? certamente sì quello che ha un po' diciamo anticipato il dottor Belluzzo è che il trust non può avere come scopo la protezione e la segregazione dei beni il trust deve avere come scopo un interesse meritevole di tutela e in questo caso l'interesse meritevole di tutela è la protezione e il benessere del figlio attenzione non basta scriverlo bisogna anche farlo perché poi i fatti sono quelli che contano non sono soltanto quello che scriviamo nell'atto istitutivo volevo sapere se nell'ambito del dopo di noi il trust è uno strumento utilizzabile giuridicamente in Italia se no quale alternative ci sono? guardate mio socio è stato uno al senato non politico tecnico che ha cercato di portare la legge c'è e si baserà sui trust speriamo che il legislatore sia un po' contaminato da quello che ha ascoltato e aspettiamo quello che fa se la fa bene il trust è lo strumento per il dopo di noi allora io vi ringrazio per essere stati con noi ciao a tutti